buongiorno da obiettivo news oggi 2 febbraio e la presentazione del signore oggi anche la giornata mondiale della vita creata con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza sulla vita e sui diritti è una giornata in cui le persone di tutto il mondo si uniscono per riflettere sulla sua importanza e per difendere il valore intrinseco di ogni essere umano la giornata mondiale è stata istituita per sensibilizzare le persone sui temi come l'aborto l'eutanasia la pena di morte la tratta di esseri umani e molte altre questioni relative alla dignità e al valore oggi è anche la giornata nazionale delle crespelle e la giornata internazionale dei tater tots patate grattugiate e fritte di forma cilindrica tra i nati di oggi annoveriamo james joyce 1882 shakira 1977 gabriella golia 1959 e carlo delle piane 1936 tra i scomparsi ricordiamo jane kelly 1996 e monica vitti 2022